E te facendo anche un corso mi sembra vero inerente a questo? Sì, un corso che poi ci vado ogni sabato ormai alle nove e mezza sempre Alle nove e mezza che ti prepara un po' a... e fai molta teoria, pratica, come funziona questo corso? Beh, teoria e pratica, nel senso ti spiega il maestro in questo caso dopo procedere la prima Ma mi ha detto che... che lavoro bene Bene, bene, questo è un buon segno Quindi, chi è interessato, chi ha bisogno di un artista, chi ha bisogno di avere dei quadri Perché poi alla fine Pippo fa questo, fa quadri Beh, può rivolgersi a James D. Dawson oppure no Attenzione, sì, sicuramente a James D. Dawson ma anche alla pagina ufficiale di Pippo Perché Pippo, tu hai una pagina Una pagina molto nuova, adesso è andata Di recente, insomma, ha portato delle modifiche E come si chiama questa pagina? Filippo Sprodole Art Esatto, lui potete andare lì e ovviamente contattare Filippo per fare un'opera Grazie a tutti